A Mestre c'è un nuovo punto di incontro per i piccoli, sentiamo di che cosa si tratta. Ha aperto a Mestre a due passi da Piazza Ferretto in via Verde 51 un nuovo punto vendita Baby Bazaar, un luogo di scambio di articoli per bambini, ma anche di idee, esperienze e progetti. Lo spazio Baby Bazaar consente ai genitori di fare shopping in tranquillità, in quanto è presente uno spazio giochi per bambini e un'area relax per accudire e allattare i propri piccoli. All'inaugurazione si è potuta ammirare la performance artistica live dell'illustratore fumettista Maurizio Ercole. Inoltre si sono svolti ben quattro laboratori artistici per bambini a cura di Cristina Murinacci e Christian Fauconier. Filosofia da Baby Bazaar è quella di diminuire la quantità di rifiuti riutilizzando ciò che è possibile riutilizzare. Pertanto può essere definito il negozio del risparmio, del guadagno e del riuso.